Salve a tutti ragazzi, qui è ZWillX che vi parla per farvi sapere che ho caricato un glitch dei soldi di GTA V Online facilissimo, quindi se siete interessati troverete il link del video qua sotto in descrizione. Purtroppo non posso caricare glitch dei soldi su questo canale dato che Rockstar Games ogni tanto se ne esce fuori mandando strike a tutti i canali che caricano glitch di GTA Online. Perciò tutti i video inerenti a glitch di GTA Online particolarmente potenti e fastidiosi per Rockstar Games verranno caricati sul secondo canale e noi ci sentiamo nel video che vi lascerò qua sotto in descrizione.